Dicemi Roma comunque ha, cioè negli anni è un po' è un po' migliorata dici, sei un po' internazionalizzata. Io comunque ero giù insomma treci anni fa. Eh sì tanto ma anche io perché dieci anni fa però torno spestissimo per la famiglia e devo dirti la mia famiglia è tutta nell'arte contemporanea. Sì quindi il lato creativo parte da lì, mia sorella direttrice di una galleria, mia mamma ha la sua galleria, mia nonna ha una fondazione d'arte contemporanea. Cioè tutti nell'arte, io sono la pecora nera che la tiene come hobby e nell'arte devo dirti che tantissimi artisti, tantissimi creativi vogliono venire a Roma proprio a prendere ispirazione come fosse una musa per poi creare un po' come fanno in Giappone. So che è strana questa 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 cosa però io la penso così cioè vogliono venire a prendere proprio ispirazione da Roma e da ciò che è a Roma per poi andare a creare e lo vedo nell'arte e nel cinema quindi in questi due aspetti vedo che Roma è comunque un pochino più giovane, un pochino più attiva poi in tutto il resto Milano. Dai d'altronde Roma è bellissima cioè io ci ho vissuto un anno e mezzo quando vai a Roma dici wow questa città è di una bellezza incredibile. Il problema per me è stato vivere a Roma che mi ricordo non so provavo a caricare i video è la banda non c'era però parliamo anche di tanti anni fa insomma poi gli scioperi in continuazione il traffico via del corso che non riuscivo a camminare a piedi c'era la coda non so era la banca era una cosa che qualunque cosa era difficile ecco e ci mettevi un sacco di tempo a fare delle cose che erano banali insomma e quindi questo è un po' un po' il peccato però sai magari negli anni migliora dall'altro lato a questa bellezza io vivo a Brighton è venuto il mio amico l'altro giorno a trovarmi e l'ho vista la faccia che guardava pensando mamma mia che brutta è proprio brutta cioè Brighton l'architettura è brutta è un posto con i gambiani. Io ho una connessione con Brighton speciale non so se ti ricordi che noi ci siamo conosciuti Dove ci siamo conosciuti? Online ovviamente. Sono un sito di dating no 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 dove ci siamo conosciuti? No ci siamo conosciuti perché io ho questa connessione con il mio ragazzo che è portoghese che vive con me a Londra con Brighton perché la prima volta che il primo date diciamolo così è stato a Brighton io ero all'università lui ero in classe con me tutti e due appena lasciati ci siamo detti facciamo una gita andiamo a Brighton che andiamo al Pier proprio da universitari e andando col treno verso Brighton io ho messo una storia in cui ti ha taggato scherzando dicendo Marco arrivo e tu mi hai risposto dai ti aspetto vieni a parlare così e poi cosa era divertentissima passiamo anche una notte lì e il giorno dopo avevamo questi hamburger di troppo che avevamo ordinato troppo a pranzo abbiamo detto magari passiamo c'è una persona o homeless person lasciamoglielo e questa persona ci guarda e ci fa no mate I'm vegan io ero tipo questo è solo Brighton Welcome to Brighton Welcome to Brighton però dai mi è piaciuto mi è rimasto questo ricordo nel cuore e poi i posti sono anche i ricordi che hai no quindi a me piace tantissimo io adoro Brighton ovviamente no però quello di cui mi rendevo conto è che l'immagine di una città dal punto di vista estetico non rispecchia la vibe l'energia poi tu vivi a Londra da tanti anni io da tanti anni in Inghilterra non riesco più a parlare italiano a volte ho sempre queste parole inglesi orribili che sembra che vuoi fastidiosi il problema è che che sembri insopportabile ma ce l'hai sulla punta della lingua che descrive esattamente quello che vuoi dire l'energia dell'energia della città non rispecchia quello che è l'estetica e l'energia di Brighton è meravigliosa perché la gente veramente è diversa è super anche qua direi super easy è super tranquilla rilassata non è giudicante cioè quindi è molto sperimentale ecco come città sei libero di sbagliare e non gliene frega niente a nessuno è ok prova a fare un'altra cosa quindi ah questo ti ti fa sentire accolto in una comunità è molto inclusiva ecco abbiamo la gay pride più grande d'europa cioè quindi è inclusivo per definizione io lo so anche molto infatti perché ogni volta che vengo che è sempre la ricorrenza di quel giorno di cui ti parlavo è in mezzo al gay pride quindi quando passo quasi non li vedo i palazzi perché sono tutti ricoperti di flags di bandiere eccetera quindi sì e adesso sei da dieci anni quindi dieci anni ma ci pensavo adesso a 17 mi sono spostata adesso ne ho 27 2014 2024 sono dieci anni dieci anni e quando hai iniziato a fare contenuti online? ho iniziato circa quattro anni fa su tiktok io sono nativa tiktok e poi ovviamente mi sono spostata verso altre piattaforme la mia seconda instagram chiaramente poi youtube youtube shorts eccetera con l'avvento del video breve mi sono anch'io mossa verso tutti gli altri le altre piattaforme che hanno seguito anche perché a quel punto cioè tutti hanno copiato tiktok e quindi avere il show form content il video contenuto in forma di video breve esatto a quel punto funziona in instagram reels che non si può tradurre shorts che si chiama proprio così però le persone dovrebbero imparare l'inglese questo in generale io parlo un pessimo inglese quindi sono il primo a cercare di imparare l'inglese però è incredibile come spesso chi crea contenuti si lamenta del fatto che sente persone magari in italiano usare termini inglesi quando il mondo della creazione di contenuti gira intorno a piattaforme che ti richiedono di sapere l'inglese perché se no è difficile infatti io quando cerco magari persone per entrare nel team o magari anche part time uno dei puntini proprio fissi ovviamente è il saper parlare l'inglese ma proprio è imprescindibile per me soprattutto perché io lavoro offline con aziende e spesso magari a Parigi magari in Inghilterra stessa e per sapere andare non soltanto a parlare ma insegnare la creazione di contenuti che è poi quel che faccio io offline per forza devi saper parlare l'inglese anche tutte le mie slide rimangono in inglese poi io magari presento in francese e in italiano che sono le mie due lingue secondarie per modo di dire però tutto rimane l'impostazione in inglese per forza cioè per forza mi fai un riepilogo diciamo delle tue piattaforme principali su cui sei concentrata oggi e qual è il core dei tuoi argomenti se hai cambiato magari rispetto all'inizio certo allora io sono nata su TikTok è nata come nerdy tech girl quindi condividevo tips per utilizzare gli strumenti tech in modo migliore sempre con un pinch di creatività quindi sempre un pochino viral il tech a servizio della creatività è un po' il mio slogan quindi insegnavo come utilizzare gli strumenti dal telefono io sono iPhone user Apple proprio mania e insegnavo appunto come utilizzarli per creare contenuti o comunque anche solo in generale quindi degli aspetti del telefono che non conosciamo adesso quando lo dico è talmente tanto usato e talmente tanti creator lo fanno che sembra ok quella degli iPhone 3x ok al tempo non che io me lo sia inventato no però era nuovo era qualcosa di diverso in Italia era nuovo infatti quando mi chiedono perché tu hai deciso di creare contenuti in italiano nonostante vivi a Londra nonostante hai un'impostazione comunque abbastanza inglese proprio per questo perché io ho visto che c'era proprio un buco all'inizio non c'era nessuno no su TikTok soprattutto in Italia invece in America e in Canada molte persone facevano questo a me è piaciuto subito quindi ho iniziato da lì e poi piano piano tra l'altro il mio primo contenuto virale era un contenuto in cui io spiegavo come realizzare una storia Instagram particolare su TikTok quindi parlando di una piattaforma sull'altra e da lì tutorials a valanga tante cose da mostrare tante cose da imparare io stessa imparavo e poi insegnavo e poi ho iniziato diciamo a girarmi un pochino di più verso la creazione di contenuti stessa quindi come replicare dei formati che vediamo online come poter trovare il proprio formato creativo perché poi io non andrò mai a dirti cosa devi creare ma io ti do gli strumenti proprio una toolbox per andare a tirar fuori il tuo inner creative self di nuovo con l'inglese e poi appunto secondo me possiamo farlo tutti ovviamente c'è chi deve lavorare un po' di più soprattutto perché secondo me c'è gente che non ha proprio la personalità predisposta al contenuto ma secondo me ci si può lavorare e può fuoriuscire perché è quello che vince su TikTok il fatto che sei diverso cioè più sei diverso meglio è infatti io associo sempre TikTok a Londra mentre Instagram lo associo a Parigi più romantico più estetico e quindi niente io ti do gli strumenti per tirarlo fuori da te Facebook a cosa lo associi? non lo io lo associo a Gallarate Facebook e ormai cioè buona associazione ok quindi sei partita da da TikTok parlando di Instagram però su TikTok ok e poi dove ti sei allargata? poi subito Instagram ma al tempo non c'era nei reel sembra tipo incredibile invece era pochi anni fa non c'era nei reel quindi ho iniziato semplicemente a ripostare o i video che facevo come proprio post non so neanche come chiamarli video post oppure proprio a fare dei caroselli o illustrare in storie dei piccoli tutorial mini in storie e ho subito avuto l'impressione che dovevi per forza esistere su Instagram chiaramente perché anche al tempo cioè era la piattaforma di riferimento e tuttora credo che comunque tu debba esistere su Instagram a prescindere però ecco tutto veniva da TikTok quindi l'impostazione era quella poi quando sono nati reel è entrata è stato perfetto e più recentemente su YouTube con gli shorts e chissà magari anche con contenuti un po' più lunghi a un certo punto ok anche perché TikTok c'era notizia di oggi vabbè si sa da tempo in questo momento esatto stanno testando i 30 minuti e dal mio punto di vista è ovvio che sarà durata è limitata insomma quello che è cioè perché dovrebbe durare solo 10 minuti cioè c'è tutto l'interesse avere una piattaforma che abbia video film perché non dovrei a quel punto usarla per fare altre cose comunque chiarissimo quindi questo come piattaforma e come argomenti ti sei spostata ti sei voluta sei sempre concentrata solamente su questa parte di tips come no e allora all'inizio diciamo che soprattutto con l'avvento del creator su TikTok si nota il fatto che un creator che fa una cosa e ripete quella in formato proprio meccanico riesce ad arrivare un pochino a un audience un po' più grande non dovrei dire questa cosa ma in realtà quella è la tendenza e quindi è così io però credo che per solidificare l'audience dal punto di vista di loyalty hai bisogno di dare un timbro un pochino più proprio da influencer se vuoi perché poi sono due cose distinte però molto legate e quindi secondo me pur andando in più nicchie anche perché a un certo punto ti rompi di fare sempre gli stessi video e le persone magari si rompono di vedere sempre lo stesso tutorial sui trucchi dell'iPhone ho cercato ovviamente di un po' espandere l'ombrello di contenuti che creavo i trucchi di Android no l'Android non ci riferò purtroppo questa è proprio è proprio ma perché è più forte di te però no quindi andare più sui tutorial sulla creazione di contenuti quindi poi CapCut è un enorme per me strumento un strumento che uso tantissimo che è l'app sorellina di TikTok per gli edit impesanti tutto da mobile che tra l'altro ha dei numeri di installazioni pazzesche la metà le le ho dati io secondo me è enorme però no ti dico per esempio adesso nuovi formati TikTok ha tirato fuori le TikTok series che sono queste serie fatte di episodi un po' come una serie Netflix a pagamento che i creator possono proporre sulle proprie pattaforme per nel mio caso insegnare magari nel caso di un creator comedy tirar fuori una serie tv propria a sé quindi ormai puoi fare tutto da solo nel senso che io per esempio ho creato questa serie su CapCut sull'uso di CapCut da A a Z che dovrebbe uscire tra l'altro a breve e fatta quindi di episodi brevi che uno può mettere appunto a pagamento come fosse un corso sulla tua piattaforma wow carino non sapevo interessante sì bello sì perché il limite spesso anche di tante persone è non vorrei creare un corso perché poi come faccio da dove inizio cioè ti viene l'ansia no? le piattaforme ormai ti danno proprio sul piatto d'argento la possibilità di farlo da te dalla tua stanza come team invece tu sei partita da sola immagino facendo video da cellulare sì cioè da cellulare a proposito di cellulare e lì come se ti sposti ad oggi che situazione hai come ti sei organizzata in realtà è centrato un punto un po' critico di Angi Tutorials oggi perché che è successo io sono nata vivendo online come dici tu e nel frattempo lavoravo in azienda io ero da Esteloder a Londra poi mi sono spostata da Firminis con un'altra azienda a Londra e continuavo a lavorare da impiegata mentre creavo i miei contenuti ma questo per tanto tempo infatti si può fare spesso la gente mi dice non ho tempo lo trovi e poi da lì quando le aziende hanno iniziato a chiedermi di venire proprio a presentare di persona ho iniziato il mio content coaching che è una specie di boutique consultancy chiamata Angi Tutorials che è proprio una compagnia con sede a Londra che opera su tante industrie tante io spesso lavoro con i gruppi grossi perché preferisco poi dentro tra sister brands viene più semplice e rimaniamo da sola fino a questo punto sempre poi ho dovuto prendere una persona chiaramente per aiutarmi con tutto ciò che è un po' più dietro le quinte un po' più admin perché sia come creator online che come coach offline non ho supporto né di agenzia né di nessun tipo per cui vai diretta un'azienda ti scrive e dice aiutaci a creare una strategia TikTok ad esempio e tu non hai come dire un manager ma la vedete che per forza doveva essere così perché era talmente nuovo sia per me che per loro che ce la gestivamo un po' come veniva no? a un certo punto per esempio ho iniziato a replicare un formato che magari con un'azienda funzionava con un'altra aggiustarlo un pochino dovevo per forza essere io a guidare la macchina perché è troppo nuovo è qualcosa che non esisteva prima quindi per forza doveva essere così per esempio poi full circle sono tornata da Esteloder come coach che ormai seguo da qualche anno e abbiamo impostato un sistema per il quale loro hanno trovato dei creator interni all'azienda di tanti diversi brand e fatto creare dei contenuti a loro con me come coach dietro le quinte invece di magari andare a prendere solo creator esterni pagando tantissimo invece di andare a prendere un'agenzia esterna quindi per ognuno poi si trova il proprio pacchetto però uno deve essere disponibile e aperto chiaramente anche a lavorare sul lungo termine perché se vengo a fare una one off di un workshop di una giornata sicuramente utile dal punto di vista pratico perché il pomeriggio di solito facciamo proprio degli esercizi su dei contenuti preimpostati o comunque do dei feedback sui loro contenuti che già mi hanno mandato e hanno creato in precedenza però rimane lì c'è anche quantificare l'esperienza e il servizio che io ho dato è difficile se invece poi io ti seguo sul lungo termine è un pacchetto più interessante e quindi come ti sei organizzata come team e quindi adesso sono da sola sempre alla ricerca ma sei ancora dipendente lavori da qualche parte ah ok ti sei staccata da ormai due anni ok no era diventato impossibile no era diventato impossibile perché prendevo tutte le vacanze per andare a fare workshop o comunque diciamo lavoravo spesso e volentieri anche nel weekend ma in realtà lavoravo a me piace quel che faccio quindi lo vedo un po' come vita e lavoro insieme però era diventato brutto perché non riuscivo a fare le cose bene quindi sono dovuta andare via e quindi però rimango tutt'ora tutt'oggi da sola con l'intenzione in realtà di farmi aiutare su vari aspetti ma è difficile anche soprattutto perché essendo a metà tra un paese e un altro poi a chi lo dico sicuramente hai delle difficoltà simili o challenge simili anche trovare le persone non mi è semplicissimo ecco quindi un appello a chi vuole venire a lavorare guarda io una soluzione che ho trovato negli anni sul trovare le persone è stata quella di banalmente fare un appello alla mia community come se tu facessi un appello alla tua community e la cosa che ho scoperto è che tu hai persone che ti hanno visto nel tempo magari ti seguono da quattro anni quindi ti conoscono molto bene io per dire prima sono andato su a prendere il tè e c'erano un po' di persone che lavorano con Spotify e cioè uno mi ha subito detto allora partite un po' anche giocatore cioè sanno già tutto di me perché se io ti seguo so tutto di te se ti seguo apprezzo anche i tuoi principi qualunque creator uno sia per cui hai delle persone che già sono allineate diciamo alla mission aziendale non so come dire non hai quel problema lì e lì si tratta solo di capire qual è poi la persona giusta certo però è un punto di partenza immediatamente molto vantaggioso perché se invece parto da zero arriva una persona si siede ti chiede ma cosa sono i G-tutorials ma cioè già non so è strano è il classico rapporto di recruiting invece qui tu puoi veramente saltare e quello aiuta un sacco ecco come primo step però poi c'è un fatto di organizzarsi per passare dall'idea di essere solo avere un team di persone che invece poi va gestito va a coordinare però in fondo è come dire fai solo tu contenuti oppure sei tu la coach di 20 influencer il tuo ruolo è diverso in quel caso non sei tu a fare i contenuti ma devi dire a loro come farli e in azienda è un po' la stessa cosa insomma però è un passaggio che c'è poi magari ma e ti dico io sono apertissima a questa seconda cosa quindi il problema non è lì secondo me quindi sono felice di lavorare anche con persone felice di spesso mi viene chiesto ma come si diventa te come faccio che percorso hai fatto difficile spiegarlo però facendo training a una persona si può arrivare anche a quel che faccio nella vita quindi ovviamente a coach questa persona per diventare un creator e comunque sapere come creare contenuti per ciò che riguarda l'appello alla comunità assolutamente ma sono d'accordo con te anzi a volte mi arriva una persona che mi dice che ne so io tiro fuori sono a Venezia non ho tre due settimane vado a Venezia per lavoro per una settimana dico in una storia che sarò a Venezia una ragazza mi dice posso aiutarti a creare dei contenuti venire con te quindi proprio mi viene anche da loro l'istinto di di venire a lavorare insieme però è anche vero che spesso chi vuole diventare creator vuole stare nello spotlight no? e secondo me un creator ha bisogno di un supporto di una persona che invece non desidera perché ci sono persone che desiderano e persone che non desiderano lo spotlight e abbiamo bisogno di andare diciamo essere in camera c'è chi vuole stare dietro in camera e dietro quindi c'è bisogno trovare anche quello poi io sono dell'idea che secondo me va trovata più la persona cioè quando mi dicono metti giù una job description che la potrei fare pure ma in realtà a me piace più vedere la persona in sé cioè ci sono delle cose imprescindibili come il saper parlare inglese come l'essere anche un po' innamorati di Angie Tutorials in generale non di me ma proprio di cosa significa Angie Tutorials quindi quello che dicevi te e poi te la troviamo in una posizione in base anche a quello che piace a te però c'era Coinbase azienda che non c'entra niente però avevano fatto questo annuncio che mi era molto piaciuto che mi era molto piaciuto si dice che mi era molto piaciuto in italiano hanno avuto un dubbio che mi arrivalo insomma era un bel annuncio ok e praticamente dicevano noi cerchiamo persone straordinarie sei una persona straordinaria e facciamo alcuni esempi non so sei un fenomeno in matematica sei un genio del mondo crypto non so scrivici è un lavoro lo troviamo vedrai che lo troviamo allora mi piaceva molto questo approccio qua al posto di dire guarda noi cerchiamo l'esperto quindi era forte ti tocca approfitto della tua consulenza gratuita sei qua e quindi una consulenza ti dico alcune riflessioni che ho fatto in questo periodo premesso che per me magari è un periodo un po' strano perché non ho un interesse a crescere sulle piattaforme sono anche in una fase della mia vita dove cioè come dire chi se ne frega nel senso sono interessato un po' ad altre cose non tanto alla crescita è sopravvalutata comunque sì ecco quindi sono un po' come dire distaccato dal tema della voglio avere 10 milioni di follower così però alcune cose che ho notato su tiktok e magari dimmi come come la vedi tu un primo aspetto che ho visto è questa transizione dall'importanza del numero di follower all'importanza del singolo contenuto cioè prima se penso quando c'era all'inizio facebook tu avevi un milione di follower era fatta perché a quel punto avevi una distribuzione anche organica che era importante cioè raggiungevi comunque una fetta importante di persone avevi il tuo media in qualche modo poi questa cosa è stata cancellata perché la riccia organica è sparita un po' dappertutto a meno di pagare non hai riccia organica a meno di fare contenuti incredibili però su tiktok l'idea che faccio ho milioni di follower faccio un video e fa mille views cioè conta di più il singolo contenuto a prescindere da quanti follower hai è una cosa che tu vedi o è una mia no assolutamente sì e questo ovviamente dà opportunità a chi parte da zero di essere visto come me come chiunque e dà ovviamente anche un senso di terra terra a chi invece ha tantissimi follower soprattutto quando vuole pivotare il suo focus di contenuti che è quello di cui parlavamo prima però in realtà io consiglio sempre di non guardare il contenuto singolo ma guardare il profilo perché se uno si concentra troppo sul contenuto a sé noto che anche psicologicamente crea dei disagi di numeri di motivazione di proprio di istinto è così perché ovviamente l'adrenalina è data dal numero però se uno invece guarda il profilo a sé è un obiettivo per quel profilo ogni pezzo poi che va a formare questo puzzle che è il profilo è importante anche se ha tantissimi numeri o non ne ha tanti mi spiego nel caso dei tutorial io posso fare un tip sul telefono che mi va a due milioni di views e che so che sarà easy così e che ho fatto mille volte che un po' mi annoia anche perché già è stato fatto e so come farlo meccanicamente e poi il contenuto dopo può essere un esperimento per me quindi one for you one for me di qualcosa di nuovo un vlog di una cosa creativa nuova che voglio sperimentare qualcosa con le AI e magari quello mi floppa perché la gente non conosce il mio formato perché non conosce diciamo questo lato della mia creazione però secondo me è molto più importante andare anche a sperimentare e quello non ti fa crescere quello ti fa rimanere anche un po' cioè non sei un profilo come dicevamo prima lei fa questo in ogni contenuto facile anche da classificare per l'algoritmo esatto molto più semplice però secondo me poi dipende dalle fasi in cui sei è importante avere anche quelli perché per la gente che dicevi prima te che ti segue ogni giorno soprattutto se creda tanto con costanza per quelle persone è importante avere anche questi contenuti un pochino più deep anche un pochino diversi perché loro tanto se lo vanno a vedere comunque perché si fidano anche di te appena ti vedono ed è qualcosa di diverso qualcosa di nuovo cioè qualcosa di comunque per tornare a ciò che dicevi sì è molto così e dà anche l'opportunità di andare a sperimentare questo fatto perché poi magari trovi un nuovo formato una nuova playlist di contenuti che prima non ti aspettavi che potesse esplodere tipo la Tube Girl parlando degli UK e che invece può esplodere da un giorno all'altro Tube Girl? Tube Girl! Non conosci Sabrina? No Conoscete Tube Girl? No Conoscete? Cioè dove conoscete non conosce? Facciamo un Tube Girl live insieme Cos'è Tube Girl? Sabrina ti faccio un tutorial Ok È una ragazza che si chiama appunto Sabrina che vive a Londra e che utilizza la metro come palcoscenico quindi lei si mette nelle metro di Londra vicino alla finestrella tira giù la finestra e con il vento nei capelli balla facendosi un video Ah eccolo qua Esatto Ok Tube Girl Tube Girl è stata presa da qualsiasi da Valentino Ugo Boss è la faccia di tantissimi brand adesso perché ha dato alla community di TikTok confidence cioè lei si mette proprio là davanti a tutti e la gente ha risposto a questa cosa tantissime persone hanno iniziato a inserire Tube Girl nei loro formati tipo io ho fatto il tutorial how to be a Tube Girl o magari un ragazzo tipo che fa comedy ha iniziato a fare lui che fa comedy che fa la Tube Girl da me immagino nascere anche Tube Boy o qualcosa del genere no? C'è un ragazzo cioè inevitabilmente d'Italia che fa che lo fa nelle nelle ferries negli aliscafi che fa tipo aliscafo boy non ho capito non so come si chiama però si ha dato il via ovviamente come si fa su TikTok ha una serie di contenuti snowball effect che poi tutti insomma lei per esempio che è nata dal niente cercava una inter una internship lei era uscita dall'università a Londra cercava una internship ha iniziato sta roba della Tube Girl oggi sta la sfilata di Valentino mi sembra perché mentre parliamo quindi sì la cosa che mi faceva riflettere resto sui numeri poi sul contenuto quando guardo i numeri oggi di TikTok poi vabbè il mio profilo non è minimamente indicativo però la sensazione è che prima tu postavi un video facevi un milione di views ma così in 48 ore era esplosivo oppure vedevi che non partiva il video fine dice ok questo è andato così oggi invece carichi un video non so io ho un video di ping pong va bene così ma che ho caricato per divertimento non mi stupisce e ho pensato ma chi lo guarda sto video cioè non è possibile ed è partito e non ha fatto numeri poi adesso l'ho aperto l'altro giorno e ha fatto 116 mila views e dici what quando è successo questo è come se servisse più tempo per i video rimanessero in circolo più a lungo mentre prima la sensazione era carico un video o funziona o sparisce e oggi invece ho quella sensazione lì come la vedi tu? allora sono sicura che se io apro le mie notifiche di TikTok oggi c'è almeno ti esci delle prime 50 sono di video molto vecchi quindi sono d'accordo con te del fatto del riciclo e secondo me questa è un'indicazione molto importante del fatto che bisogna evitare di farsi prendere dal panico e cancellare dei contenuti se non vanno bene nelle prime 24 ore perché appunto possono essere rispolverati più tardi ed è anche un'indicazione del fatto che uno deve essere sempre costante perché se tu poi sparisci chiaramente allora cosa succede che non te lo spiego perché l'algoritmo lo sai benissimo come funziona però in generale partendo dalla base succede che un contenuto postato oggi magari va molto bene e quindi l'algoritmo capisce che tu puoi essere interessante per alcune persone e quindi rimanda dei contenuti magari vecchi in circolo o una persona che vede un contenuto che tu hai postato oggi farà swipe right andrà a vedere dei contenuti vecchi torniamo al fatto che è importante quindi il profilo a sé piuttosto che ogni singolo contenuto e deciderà a quel punto se seguirti o meno quindi se il tuo profilo il tuo puzzle in generale è interessante per loro o no se andrà a vedere dei contenuti vecchi e capiterà su quello del ping pong e magari farà che chiaramente parlerà con questo contenuto quindi magari lo commento lo guarda fino alla fine che è una delle cose delle metriche più importanti per TikTok allora di nuovo l'algoritmo si rinnesca e dice ok questo contenuto vecchio potrebbe ancora essere interessante e lo rimanda sulla for you page quindi credo che questo sia stia accadendo anche su Instagram sui reel secondo me in questo momento molto ecco visto che hai citato Instagram ti faccio un paragone ho alcuni video di scacchi che sto caricando perché mi piace anche la scacchia e quindi dico sai cosa adesso mi sorbite nel senso così a me piace e ho un maestro una volta alla settimana registriamo la lezione e carichiamo io carico l'intera lezione su YouTube e poi delle clip scacchi ok per cui non so come dire è una cosa molto di nicchi ti deve piacere gli scacchi perché se no non lo guardi e ho caricato lo stesso video su TikTok e su Instagram allora su TikTok ha fatto 8300 views ok vabbè buttale via buttale via su Instagram lo stesso video aspetta lo recupero perché non non ce l'ho qua su Instagram lo stesso video ho fatto 107000 views ok quindi la domanda che ti faccio è e questa è una cosa che vedo spesso vedo spesso in genere in questa maniera cioè Instagram ha più views di TikTok i reels però può essere anche il contrario cioè io prendo lo stesso identico contenuto e lo carico di qua e di là e anche su shorts e performa in modo molto diverso e a volte mi domando è l'audience diversa su quel contenuto quindi Instagram gli piace di più gli scacchi e TikTok no ad esempio però ci sono video di scacchi che fanno numeri pazzeschi anche su TikTok ovviamente certo oppure nel caso di Instagram il fatto che vogliono spingere reels perché vogliono prendere il mercato e quindi ti aprono i bocchettoni e dicono wow guarda che numero sto facendo e tu dici wow allora offri più ed è semplicemente quello come vedi diciamo quando carichi contenuti sulle piattaforme e carichi lo stesso contenuto uguale sulle due piattaforme o lo editi leggermente in base alla piattaforma allora io non credo che sia nessuna delle due cose perché mi spiego nel primo caso no nel caso diciamo della audience io credo fermamente che si possa parlare di qualsiasi cosa anzi più strane specifiche di nicchia meglio è conosci Francis Bourgeois no enorme 4 milioni di follower UK based lui è un train spotter quindi lui carica video di lui che vede i treni passare e si emoziona ok più di nicchia di così meraviglioso fatelo vedere ed è è ambassador di Gucci oggi vabbè fatelo vedere perché è un grande comunque più di nicchia di così non c'è niente quindi secondo me scacchi ping pong qualsiasi cosa sia va bene ovunque non credo che sia l'audience e non credo neanche che sia aprire i bocchettoni perché quello lo era così ma non credo che sia più così perché ormai siamo arrivati a un livello che sui reel sicuramente spingono comunque però secondo me un po' di meno anche anzi di prima secondo me è il linguaggio del contenuto stesso che tu stai andando a postare cioè le piattaforme sono diverse TikTok è il leader nel contenuto in forma di video breve è un linguaggio molto particolare si può parlare di quello che vuoi ma devi aderire a certi canoni di linguaggio di TikTok Instagram e Shorts eccetera sono follower nel video breve ovviamente YouTube è il padre del video però nel video breve negli Shorts arrivano dopo e quindi secondo me stanno cercando di ritagliarsi uno spazio nel mondo del video breve per esempio Instagram si è ritagliato sempre di più lo spazio dei contenuti molto brevi dai 10 ai 15 secondi massimo o dei contenuti più di ispirazione parigi romantici estetici io lo vedo così nella mia testa mentre invece TikTok che è il padre proprio leader del contenuto in forma di video breve ha un linguaggio tutto suo che secondo me bisogna rispettare e che le aziende non comprendono appieno e il mio lavoro è quello appunto di facilitargli l'entrata in questo linguaggio quindi secondo me dipende da cioè dovrei vedere questo contenuto di scacchi ma secondo me dipende da quello cioè devi guardarlo perché merita lo guardo lo guardo giuro c'è uno scacco matto in due mosse tu stai lì a guardare la scacchiera è molto divertente con il tuo fidanzato dovresti mettervi lì a guardare perché veramente vale una serata facciamo i nonni proprio pensa che dall'altro ieri ti tocca cominciare a suggerirmi i video di questo che salta la corda in modo acromatico certo c'è un fisico pazzesco salta la corda e poi sbatte la corda per terra e dura 20 secondi prende da te e tu ok sì sto pensando di fare di prendere un po' di fare ah davvero sì sì a me piace salta la corda è cardio sì sì è cardio quindi stavo pensando no no effettivamente devo prendere poi ho comprato anche la corda è presente c'è la corda quella con i sensori no c'è le luci no 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 praticamente è una corda collegata a un'app e tu sai quanto quanti giri fai sì sì quanti giri fai che livello di allenamento hai e hai pesi diversi agganci corde che hanno un peso diverso mi sei stato totalmente influenzato da questo tipo no e questo cioè mi è entrato nel feed mentre io sto pensando effettivamente a sta roba o magari ho fatto qualche ricerca e quindi mi hanno comunque in un qualche modo perghettizzato però la cosa che a me sempre colpisce è questa mi è piaciuto il video ok perché lui è figo e dice vabbè sei figo bravo è fatto bene la musica è coinvolgente fa dei numeri carini però non so neanche come si chiami sto tizio cioè e molti su TikTok io non ho la più pallide è quello che salta la corda senza maniera è quello che salta la corda però cioè se lui fa un evento non so neanche chi sia ecco mentre invece su YouTube se tu mi dici Lex Friedman so esattamente chi sia se fa un evento e ci sono a Brighton io vado all'evento di Lex Friedman probabilmente poi è anche un po' noioso vai presente quello che fa le interviste dopo un po' dici ma fai un sorriso nel senso non è che devi essere sempre così però forse TikTok ha questa cosa qua o non ti tocca i contenuti brevi per i creator forse hanno questo problema che una volta si dimentica che tu fai dei numeri pazzeschi ma la gente non ha un'affiliazione con te sì ti ho dato dei numeri ma poi bravo mi hai divertito ma non è che ti seguo non sono leale hai toccato un punto completamente cruciale ed è quello di cui parlavamo prima scusa ti interrompo ma per me questo è proprio il centro di tutto quando uno mi viene a dire certo su TikTok poi è facile fare i numeri certo è facile se tu ti ci metti vai virale ma poi dipende ovviamente con la viralità dove la porti per me è molto più difficile gestire un TikTok piuttosto che un Instagram perché un Instagram a parte che hai vari touch point c'hai le storie c'hai i caroselli i post c'hai i commenti cioè ci sono tanti posti dove tu puoi eccellere e bilanciarli quindi se non sei forte lì puoi bilanciarlo con quello io seguo creator solo per le storie perché magari i real non mi interessano neanche troppo ma le storie sono finissime TikTok ce n'è uno di mezzo è quello lì quindi per fidelizzare ho provato a mettere le storie però non so quanto siano usate su TikTok adesso in questo momento tanto le stanno spingendo quindi se ti interessa spingerle adesso però su TikTok è più difficile fidelizzare le persone perché appunto hai questa idea del quello che sta tra la corda quella che fa i trucchi iPhone quindi per crescere avere un formato mirale mirato soprattutto all'inizio della nascita dei creator era appunto the way to go però oggi credo come ti dicevo prima che per fidelizzare si debba avere lasciare un'impronta di stile o di persona sicuramente in ognuno dei contenuti che uno fa ma non per forza uno deve avere una nicchia anzi deve crearsi la propria nicchia c'è questa ragazza che si chiama Emily Kaiser che è americana e lei crea dei contenuti fantastici perché lei usa TikTok in questo modo cioè come proprio un profilo stesso lei si è creata la sua nicchia è una mamma fa sport fa contenuti di cleaning la casa cioè fa tanti contenuti diversi ma io se ne vedo uno anche senza vederlo in faccia so che l'ha fatto lei perché ha un'impronta sua che si è creata e che ha costantemente curato nel tempo e la gente stravede per lei lei vende ma tutto ti vende dalla caffettiera di casa cioè letteralmente io voglio comprare tutto quello che lei ha per farti capire e c'è riuscita con TikTok usandolo in questo modo quindi magari quello del salto della corda non ti lascia l'impronta perché appunto usa la piattaforma in modo diverso io la vedo così vatti a vedere Emily Kaiser comunque ok comprirei tutto beh no ma io sposo la tua nicchia sei tu la nicchia sei tu perché alla fine dei conti poi sei anche più difendibile rispetto a dei dei cloni non rispetto all'AI perché ormai siamo sostituibili con i nostri cloni no però sei sostituibile non sei sostituibile da un altro perché se questo salta la corda ok allora arriva un altro che anche lui è palestrato e salta la corda anche lui che differenza c'è non c'è nessuna differenza se invece io avesse un contesto di questo signore è diverso no cioè io sono pelato via a Brighton gioco a Vinpon c'è 51 anni cioè ho una serie di elementi dove o sei me se no come fai certo quindi questo è e tu ogni creator ha la sua cioè più hai la tua storia personale dentro anche di sfighe di problemi di cose che ti sono andate male non è che devi sempre essere il fenomeno no il guru essere relatable anche e uno dice ok questo insieme questo pacchetto nel suo insieme mi sembra interessante infatti tornando a TikTok ti faccio l'esempio dei trend perché di istinto ci viene sempre da copiare e incollare un trend no cioè io quando vado dalle aziende i contenuti che mi fanno vedere soprattutto quelli beauty make up sono prendere un trend che c'è virale e rifarlo uguale ok a meno che tu non sia Chiara Ferragni non gliene frega niente a nessuno di ripetere Chiara Ferragni non so in questo momento quanto seguirà il trend però no insomma a meno che tu non sia anche Montemagno non gliene frega niente a nessuno di vedere il tuo trend uguale a tutti gli altri a meno che non c'è qualcosa di diverso però Emily Kaiser che è questa creator cosa ha di diverso lei ci droppa un indizio quindi le cose di cui parlavi che per esempio per lei può essere la Dr. Pepper lei se ne beve balanghe ogni giorno c'è una Dr. Pepper in mano e lei magari facendo il trend con la Dr. Pepper le persone che appunto nel mix di tanti contenuti che fa sul profilo vanno a capitare su quel trend si sentono secondo me un pochino parte di una community cioè ti dà comfort che tu sai che a lei piace la Dr. Pepper non so come spiegarti è un po' come una serie Netflix sai cosa è successo nell'episodio prima e magari ti dà anche un po' di fomo di vedere cosa succede dopo quindi vai a seguirla è un po' tutto collegato così una creator che avevo seguito più che altro come fenomeno non mi ricordo il nome quella che faceva le interviste a personaggi super famosi è uscita all'improvviso e poi Emily Chamberlain no l'altra quella che ha fatto l'intervista a letto con non mi ricordo chi americana sì poi ha intervistato anche Scarlett Johansson un ton di personaggi Hayley Bailey ma lei intervista così non ha reazione ah ok come dire ha creato questo personaggio lei non è così ma mette un po' a disagio comunque certo è come dire non gli frega niente di chi sei puoi essere chiunque così no però interamente costruita perché poi anche l'insieme dei contatti che ha avuto è molto difficile avere quei personaggi quindi o hai dietro una struttura che ti crea quel tipo di connessioni se no non lo puoi fare quindi questo è chiaro però è interessante vedere poi questi questi spunti una curiosità editing dei video su youtube io vedo un trend di minore editing meno montaggio contenuti anche molto lunghi l'altro giorno ho visto un'intervista di Uberman quattro ore di video che dici no no nel senso ho visto che ha postato un'intervista di quattro ore adesso con lei faccio summarize più o meno capisco però magari me la guardo anche quattro ore spalmata nel tempo in dieci anni però sono anche contenuti non editati cioè o ce n'è uno che fa bodybuilding ma non è bodybuilding è più pesi fa un vlog prima cresciuto clamorosamente dove è in macchina lui guida e ti parla un po' dei fatti suoi e poi lo vedi in palestra che fa questi pesazzi così con questi braccioni è più specifico invece sugli esercizi che fa no quindi è un mix molto poco editato come dire seguimi così come la vedi su tiktok perché dall'altro lato invece hai video incredibilmente fatti bene cioè proprio che dici wow questa roba qua c'è dietro un lavorone che tendenza vedi ma intanto è una cosa interessante anche questa che soprattutto con i brand di lusso viene sempre messa sul piatto perché arriva bulgari che mi dice io voglio fare contenuti ma tiktok non è per me perché no è royal lo fai secondo me no cioè ci sono creator del tipo mister z o del tipo un team che fa fashion sempre based in uk che creano con delle macchine super high quality dei contenuti di qualità incredibile e che comunque vanno ripeto secondo me su tiktok puoi fare quello che vuoi aderendo al contenuto tiktok cioè aderendo a quei canoni di linguaggio di piattaforma visto che l'hai citato anche prima dacci delle linee guida al tuo punto di vista quando dici il contenuto tiktok il linguaggio tiktok che cosa intendi non saprei neanche ovviamente senza darti degli esempi specifici però intendo c'è proprio un contenuto che tu vedi che sai che è un tiktok soprattutto anche quelli come dici te fatti sul momento che però in realtà possono essere molto staged del tipo c'era questa intro che andava virale poco tempo fa che io chiamo che si chiama il gen zeders shake per il quale io sono tra i piedi qua metto il telefono inizio ora il video e faccio guys you have no idea e inizia così no io questa cosa l'ho staged l'ho praticamente sicuramente fatta 4 o 5 volte questo movimento così e sembra molto siamo in facetime e ti devo troppo dire una cosa ma in realtà io l'ho pensata è ben preparata è teatral cioè quindi questo intendo è un po' quel contenuto irrelevant anche sicuramente in cui la gente si può identificare contenuti in cui puoi imparare qualcosa di molto specifico in breve tempo quindi via su youtube che magari ti vai sei pronto a vedere tutto il contenuto lunghissimo lì c'è una pillolina e io ti insegno in pratica a fare questa cosa non è che c'è il corso di e-learning e inizio a dire cos'è l'e-learning la definizione no ti insegno scacco matto in due mosse quella cosa lì specifica che uno viene per imparare nel mondo education questo è tiktok no o appunto quella relevancy anche nel comedy no molti creator comedy da Mattia Stang da Tommy Cassi fanno dei contenuti di situazioni di vita quotidiana che tutti conosciamo e che non diciamo perché sono un po' delle regole non scritte no che uno e quindi uno si riconosce in quel momento in quell'emozione in quel momento e gli piace perché siamo tutti anche un po' selfish no gli piace vedersi in questa cosa e quello è un tiktok dipende da ovviamente dalla categoria però lo vedi subito se è un tiktok anche branded content un branded content io dico sempre non creare un video per tiktok o una dv per tiktok crea un tiktok quindi crea un contenuto che non va a interrompere il flusso di intrattenimento che la persona che apre tiktok sta cercando perché quello cerca in quel momento non è che cerca l'adv la pubblicità però la discovery power su tiktok è incredibilmente alta tipo di un 15% cioè la gente vuole scoprire dei prodotti su tiktok però vuole essere fregata ho capito non vuole essere fregata esatto cioè vuole continuare ad essere intrattenuto però scoprire anche i prodotti allo stesso tempo quindi vuole un adv che sia un po' nascosto se vuoi o comunque non palese marchettato quindi per i brand per esempio creare un contenuto pr lungo con la fotocamera magari anche high quality o anche low quality non importa e poi tagliare dei pezzettini per mettere su tiktok non funziona perché tu non hai creato un tiktok hai creato un video che poi hai reso tiktok e non va se invece tu la pensi tiktok quindi magari vedi anche dei trend devi essere molto più flessibile a quel punto vedi anche dei trend del momento perché ovviamente devi sapere di cosa stiamo parlando in generale sulla piattaforma o capisci anche l'editing del momento tipo adesso va la gen z shake oppure adesso va a usare questo il gen z shake quello che ti dicevo prima oppure adesso va questa quest'altra cosa e quindi inevitabilmente tu devi vivere la piattaforma sempre per sapere qual è il linguaggio del momento perché altrimenti tu arrivi a parlare cinese a gente che parla italiano e non ha senso quindi non stai creando un tiktok ma è convinto da domani faccio aspetta aspetta l'unico thread io non seguo mai trend in generale su nessuna piattaforma perché sono più concentrato su che cosa interessa a me parlare quindi sono più spostato su quello sapendo che spesso parlo di cose che non interessa a nessuno perché a me interessa ma non interessa culturalmente però per dire anche magari trend la Ferragni c'è avuto il casino non mi interessa parlare di chi ha Ferragni e quindi alcuni argomenti proprio li salto perché a me non interessano quindi non voglio cavacare però so che farebbero dei grossi numeri e quindi questo è anche il bilanciamento che mi chiedo con le aziende come trovarlo nel modo giusto perché da un lato l'azienda vuole vuole i numeri e numeri che portino poi conversione perché poi dobbiamo vendere bla 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 dall'altro lato se vuoi fare veramente numeri o sei un fenomeno e hai un'idea clamorosa per un contenuto e dici bravissimo però quante volte lo riesci a fare ogni giorno difficile se no devi andare a fare dei contenuti che siano diciamo non intellettualmente troppo alti perché se no quel contenuto è difficile che vada virale no inevitabilmente hai una serie di contenuti che sai che funzionano meglio cioè mister beast non fa approfondimento letterario o poesia no peraltro lui su tiktok ha fatto una roba geniale l'ha visto mister beast che costo di produzione clamoroso e diceva fermava la gente per strada diceva segui vuoi andare a parigi ti pago il volo e quindi e poi nei 50 secondi vedevi la persona che volava a parigi cioè quindi immaginati per far 50 secondi spendeva non so un milione e quindi vabbè mister beast fa cose diverse per cui chiaramente puoi fare anche cose molto carine però con budget diversi in ogni caso mi domandavo ecco come quando parli con le aziende come fai a trovare questo questo trade off tra vogliamo i numeri però dobbiamo anche essere se siamo bulgari cioè non possiamo fare i balletti o e quindi più diventi però corporatese aziendalese più il contenuto diventa inguardabile più inizi a avere becco da legal compliance più a quel punto diceva beh pubblichiamo comunicato stampa e facciamo prima quindi come fai a trovare quel bilanciamento è tutto lì il lavoro è tutto quello di andare a trovare un formato creativo che possa essere un fit sia per l'azienda che per la piattaforma e c'è ci sono tanti brand tanti brand che l'hanno fatto per citare uno luxury Valentino che io lo trovo geniale è arrivato a creare questo manichino bianco di Valentino che è una ragazza un personaggio che è molto tipo posh molto tipo snobbina e mostra i prodotti di Valentino tipo mentre parla quindi è un creator come di questo manichino e questo manichino con un contenuto girato con delle camere meravigliose anche ovviamente animato con AI o non so come con 3D animation è un TikTok quando tu lo guardi è pensato per la piattaforma quindi è un combacia con entrambi i mondi e quindi quello che io faccio con l'azienda è andare insieme a fare un brainstorming su quel che porto io che è il linguaggio TikTok e quel che portano loro che è il brand e ovviamente poi sul lungo termine si va a trovare qualcosa che funzioni per tutti e due per quanto riguarda i trend quello secondo me fa molto anche la persona che si occupa di questo nell'azienda ovviamente perché io posso supportare ma su breve termine chiaramente una persona che capisce la piattaforma e che la vive riesce poi a sfruttare anche i trend del momento per esempio ti ho citato Tube Girl Ugo Boss che è molto bravo a lavorare con i creator mi piace quello che fa si vede che they got it cioè hanno preso Tube Girl il giorno dopo e l'hanno messa hanno il pulso della situazione sì capiscono cosa sta succedendo cos'è e riescono a integrarlo in modo creativo e in modo boss cioè in modo che abbia un senso in linea con loro sì so che sono molto vaghi queste risposte però a meno che non ti faccio vedere magari degli esempi è difficile rispondere però sta tutto lì il lavoro cercare di mantenere il proprio io tu prima dicevi io non posso snaturarmi e parlare della Ferrani se non mi interessa e lo capisco ma non funzionerebbe perché se tu non lo senti tu di parlarne le persone lo sentono che sei un po' forzato che non è il tuo stesso motivo per il quale quando un creator fa un ADV deve per forza mantenere il suo stile la sua impronta non è un cartellone pubblicitario perché se no si sente che non è un sandwich dove metti esatto il prezzo e lo sconto anche per la longevità io penso io sono 12 anni insomma che faccio video sui social e sì tu eri creator prima dei creator però la cosa che che ho notato è che nel tempo è molto meglio rinunciare a delle views facili tra virgolette perché vedi l'argomento non so la guerra israele israele palestina cioè è un tema enorme quello su cui se tu fai un contenuto hai grandi numeri ma hai grande anche attrito cioè è molto problematico come argomento non lo puoi toccare a meno di essere uno specializzato a fare quel tipo di contenuto allora è una cosa diversa però hai tutta una serie di argomenti su cui è ovvio che tu fai dei numeri se ne parli però rischi di bruciarti una credibilità nel lungo periodo dove uno dice sai cos'è ma chi se ne frega cioè questo è un coglione nel senso è meglio risparmiare no? a volte dici ok faremo meno numeri avrò meno visibilità però mantieni la tua credibilità nel lungo periodo e quindi questo è paga molto molto di più però un trend che avevo visto su TikTok che volevo veramente farci un video poi non l'ho fatto era questo c'era questo queste ragazze con i capelli lunghi ok che prendevano delle lattine con i capelli no? cioè arrotolavano i capelli intorno alle lattine e sollevavano le lattine con i capelli e poi staccava su un pelato che cercava di fare la stessa cosa e se quello voleva assolutamente fare la mia versione non l'ho ancora fatta un piccio e lo devi fare però con lui sarebbe piaciuto come monetizzazione invece quali sono i canali di monetizzazione oggi che tu vedi su TikTok perché TikTok aveva avuto il fondo il creator funds che pagava due cioccoli e un galac forse in regalo poi però mi sembra che l'abbiano chiuso e adesso ci hanno non so qual altro programma adesso allora monetizzazione YouTube subito penso soprattutto anche per gli shorts perché loro hanno ovviamente questo programma per il quale quando sei dentro monetizzi tanto non ricordo adesso esattamente i numeri però tu devi fare un tot di views entro 40 giorni mi sembra per avere accesso per sbloccare il livello io ce l'ho attivo quello perfetto sono numeri ridicoli ah ok secondo me con gli shorts imbarazzanti ok perché io ho un amico per esempio che è creator vecchia guardia TikTok 21 milioni di follower che ha proprio quasi chiuso TikTok e si è concentrato su shorts per questo motivo per il fatto che lavorandosi diciamo con tante views che a lui riesce a guadagnare molto ok poi questo non te lo dico per esperienza personale perché io per esempio non ce l'ho neanche sbloccato perché ho iniziato i shorts da meno tempo però questa si vocifera diciamo che YouTube paghi meglio per quanto riguarda me ti posso dire che su TikTok chiaramente la monetizzazione poi uno dice anche non esiste è poco due KitKat non so cosa hai detto ma sono completamente d'accordo con te non guadagni però ti apre cioè io sarei un'ipocrita nel dire non monetizzi perché io TikTok mi ha dato tutto mi ha dato la mia compagnia mi ha fatto diventare autrice di un libro diciamo la monetizzazione diretta della piattaforma è limitata a meno di ma come anche YouTube se sei MrBeast fai un sacco di soldi se invece fai numeri piccoli guadagni due le però anche su TikTok se sei MrBeast non li fai quei soldi capito cosa voglio dire cioè molto in America è più grosso il creator fund in Europa è proprio piccolo però per esempio introducendo le TikTok series è uno sbocco di monetizzazione diverso però la monetizzazione vera che tu vedi su TikTok immagino come sulle altre piattaforme brand e content quindi quando hai un audience e a quel punto io ti chiamo perché voglio lavorare con te e quindi non è interna la piattaforma ma avviene da partnership che fai se lanci un prodotto come la TikTok che dicevi prima si e dice ecco queste sono le mie nuove tazze e tu compri quelle tazze io ho comprato non su TikTok su Twitter in questo caso cosa stranissima influenzato da un tweet che avevo visto ho comprato un monitor della CO2 dell'aria per vedere quanta inidria carbonica c'è quando sono chiuso nello studio ma è pazzesco cioè anzi non me lo son portato porca paletta è uno strumentino così che costa 40 euro e lo puoi comprare con lo scontano ce ne sono 3000 e praticamente lo metti lì e lui ti fa la verifica della qualità dell'aria quando superi la soglia diciamo dangerous come si dice problematica a quel punto bippa fa b b b b però per dire è chiaro che se tu lanci un prodotto hai un audience se poi lanci un prodotto o lanci un videocorso o lanci un libro cioè qualunque cosa tu voglia lanciare a quel punto hai una monetizzazione che arriva da altre fonti affiliazione o quello che è non so che cosa ha funzionato per te per me sicuramente come ogni creator influencer l'adv anche se ovviamente ha anche i suoi lati negativi nel senso che poi a soffocare di adv l'audience vai un po' a diciamo a soffocarli appunto di adv comunque adv nel senso aziende che vogliono essere visibili all'interno infatti io come credo tu come credo chiunque prova comunque sempre quando vai a collaborare con qualsiasi azienda a rimanere te stesso e a rimanerlo a tenerlo fluido per non interrompere quell'esperienza appunto di cui parlavamo prima di intrattenimento che cerca chi viene sulla piattaforma però sicuramente l'adv è la cosa più scontata più semplice poi ci sono creditor che non fanno neanche adv proprio per niente e monetizzano in altri modi magari con i loro prodotti eccetera però io ritengo che TikTok stesso e TikTok come azienda che a me ha dato tantissimo crea delle opportunità a partire dai TikTok nella vita reale molto importanti sia dal punto di vista di monetizzazione che di brand exposure per esempio TikTok ogni anno ha i TikTok Ad Awards che è questo contest europeo per il quale ogni azienda o agenzia presenta appunto i loro ads dell'anno su TikTok e delle giurie a paese europeo vanno a decidere qual è il vincitore per paese e poi diciamo su diverse categorie e poi si riuniscono per il vincitore europeo due anni che vince l'Italia tra l'altro quest'anno io ero nella giuria italiana quindi io ho deciso con altre persone chi appunto avrebbe vinto per queste varie categorie abbiamo presentato poi Greatest of the Malker la categoria che va in Europa abbiamo presentato Barilla che era una delle fighissime si chiama Second Life Pasta fatelo vedere perché è fighissima una campagna che hanno fatto nativa proprio ovviamente TikTok alla giuria europea per il secondo anno di fila ha vinto l'Italia e quindi per dirti questa esperienza per me che è stata cioè sono molto grata del fatto che sono riuscita a far parte di questa giuria meravigliosa sono tutte esperienze che collezionarle è per me molto importante e soprattutto apre poi degli sbocchi di monetizzazioni diversi quindi indirettamente la piattaforma ti fa guadagnare ti aiuta si ti aiuta molto poi se hai visibilità comunque e su un'audience giusta la monetizzazione secondo me è sempre l'ultimo dei problemi cioè deciderai in base anche a quello che vuoi fare uno può anche fare degli eventi o può sei un un comedian come si dice un comico un comico si un comico un comico un comico si dice sei un comico e a quel punto magari fai un tour di eventi c'era peraltro mi sembra Rife quello che fa aveva questo format dove l'audience il pubblico lanciava una si chiamava Red Flag se non sbaglio e lanciava una parola quando incontri una persona vai al primo appuntamento quali sono le Red Flag quali sono i segnali negativi da tenere presente e l'audience lanciava la parola non so maglietta non so e lui partiva con la gag ok improv improv così per cui è molto bello per cui hai tante modalità di monetizzazione un'ultima cosa volevo chiederti se tu partissi oggi si arriva qualcuno e ti dice senti parto su TikTok oggi da zero non ho budget sono ho il mio cellulare cosa faresti cosa faresti come settore se vedi i settori che sono secondo te ancora interessanti scoperti cosa faresti come come taglio quanto tempo ci dedicheresti cioè come l'approcceresti per cercare di avere di creare un tuo spazio sicuramente dal punto di vista di mindset andrei a dirgli di prenderlo sul serio ma non soltanto come tempi perché ovviamente ci vuole del tempo ma anche se tu ti ritagli quel pomeriggio per creare contenuto magari anche a me spesso non so se a te mi è successo ma dico forse c'hai dei rugby in testa c'hai delle insicurezze e dici forse sto facendo soprattutto se sei fuori magari davanti alle persone forse sto facendo una cosa io non ho mai dubbi io continuo a certezza ma faccio fare dei contenuti non li pubbicherai neanche più l'esperienza ovviamente più passa questa cosa però da una persona che parte da zero questa è la cosa non passa neanche con l'esperienza non c'è sei sempre pieno di dubbi ma è che giusto sei sempre pieno di dubbi e però c'è proprio gli dico ma proprio sforzati di dire ok sarei uno stupido a farmi prendere da queste insicurezze avendo avendo ritagliato questo spazio di tempo e questo investimento che ho fatto magari anche anche solo di tempo perché alla fine il telefono ce l'abbiamo tutti non serve un grosso investimento di soldi fallo bene fallo al massimo mostrati per quello che sei senza filtri sono tutte cose molto fuffa però veramente è così e poi dicevi per settore eccetera secondo me quello non è una cosa che si può diciamo strategizzare o pianificare semplicemente perché come ti dicevo prima se non ti viene da una cosa che piace a te o che comunque ti appassiona o che ne vuoi proprio parlare cioè non riesci neanche a lungo termine a mantenerla costante perché poi negli up and down che hanno tutti online la motivazione che ti porta a risalire su è proprio il fatto che a te piace parla di quella roba perché altrimenti ti viene l'ansia che non vai male quanto posteresti a livello di quantità di contenuti e che tempo ti daresti per valutare se è una cosa che funziona o no perché ci sono persone che magari non funzionano o magari non funziona il tipo di forma che hai scelto ci sono mille variabili io direi il più possibile soprattutto all'inizio cioè quel che tu riesci a fare farlo ovviamente ho amici che fanno i cuochi online che devono andare a fare la spesa inventarsi la ricetta cucinare e pulire tutto quindi non è che puoi farne tre al giorno però più tempo puoi dedicarci e meglio è concentrati su hai una varietà di opzioni all'inizio incredibili secondo me evita di andare a copiare e incollare quello che già c'è online prendi spunto anche da altre categorie di quel che tu vuoi parlare guarda più come uno lo dice piuttosto che cosa dice perché come dicevo prima è il linguaggio della piattaforma che ha senso se qualcuno parla di ping pong e te parli di cucina niente a che fare ma quella persona ti è piaciuta e hai visto il contenuto fino alla fine perché magari ha utilizzato uno tipo di storytelling interessante o una intro interessante ruba con gli occhi tutto quello che puoi da diverse industrie istintivamente ci viene da dire faccio beauty vado a vedere cosa è virale oggi in beauty io non credo che questo sia l'approccio migliore perché poi vai a copiare quel che già c'è non tiri fuori il tuo quindi copia quello che parla di macchine e ne parla in un modo particolare magari prendi un pochino da destra e sinistra quando trovi sperimentando magari una playlist che può essere la tua che ti senti a tuo agio che piace anche vai cioè spara su quella e poi continua magari a sperimentare fuori one for me one for them e quanto pubblicheresti cioè quattro contenuti cinque al giorno sì direi quattro cinque no a settimana perché persone sicuramente che iniziano oggi che magari hanno anche un lavoro diciamo più di ufficio o comunque un full time job eccetera secondo me non riuscirebbero poi ovviamente a creare quattro contenuti al giorno però io direi per una persona del genere almeno quattro cinque a settimana all'inizio se vuoi proprio renderlo un qualcosa di diciamo se vuoi renderlo un lavoro poi se vuoi diventare un creator ovviamente più posti meglio è fai anche dieci contenuti al giorno se vuoi però l'importante per me è più sul lungo termine non sparire non lasciarti demoralizzare cerca sempre di migliorare il tuo contenuto cerca sempre di trovare queste playlist appunto su cui puoi puntare spero che siano dei tips pratici perché ovviamente poi se no è tutto un po' fuffa però e produrresti partiresti da cellulare io sì sempre io sono un mobile direttamente nell'app di tiktok anche lì dipende da cosa fai io consiglio sempre di usare la fotocamera del telefono e poi con cap cut modificare perché questo viene facile a me e vedo insegnando che viene più facile a tutti poi dipende se fai un contenuto parlato ecco una delle cose che spesso le persone che iniziano hanno difficoltà che hanno difficoltà con cui hanno difficoltà è il fatto di parlare in camera è una cosa che mi è venuta oh mio dio l'altro giorno ci ho fatto un tiktok cioè proprio mi è venuta in mente perché stavo su instagram a fare niente e mi è venuta in mente e ci ho fatto un tiktok sul momento perché ero tipo questa cosa mi si è acceso una lampadina ho visto hai fatto volevo ho fatto un tiktok questa volta ho fatto così veramente ho visto una storia di un influencer famosa grande non diremmo il nome però in questa storia lei parlava in camera e lei di solito è proprio l'influencer doc non parla mai in camera lei fa si fa foto va in giro moda eccetera e ho visto proprio guardando questa storia ci sono rimasta sconvolta perché vedevo che lei mentre parlava non aveva per niente in mente ciò che stava dicendo cioè lei macchinettava parlava di qualcosa ma nella sua testa io vedevo che lei si pensava a come stava perché aveva ovviamente quando parlo con te io non mi vedo però se ci fosse uno specchio qua inizierei a pensare oddio ma io sono così ma i miei capelli stanno bene ma nella vita reale sono così quindi diventi un po' selfish davanti alla telecamera inizia a pensare a una serie di cose mentre parli del tuo argomento quindi io consiglio sempre per combattere questa cosa ogni tanto io personalmente guardo un po' di lato non mi guardo direttamente non è che lo faccio apposta cioè non è che lo faccio diciamo come strategia però capisco che lo faccio per concentrarmi su quello di cui sto parlando ma poi consiglio veramente tanto di spezzettare quindi fare a frase veramente believe in what you're saying cioè pensa a quello che stai dicendo in quel momento specifico perché sennò si vede che tu stai vaneggiando e pensando ai tuoi capelli è anche più facile se hai magari all'inizio se uno non sa parlare di fronte a una camera avere dei pezzetti dove ti costruisci un minimo quello che vuoi dire e hai una frase alla volta o un pensiero alla volta così almeno insomma riesci poi in montaggio avere qualcosa che abbia senso sì per fortuna non siamo live quindi non è che abbiamo margine di errore esatto le live su TikTok cioè c'è chi io personalmente non le faccio però c'è chi le fai tanto e c'è chi tra l'altro ma l'hai mai visto tipo quel trend in cui la gente andava live e faceva il robot no oh ma l'avete visto voi non era mi piace ma era pietoso voglio dire ogni volta cioè era un po' pietoso da guardare cioè queste persone che si medesimavano in dei AI character cioè persone che facevano le AI ah gli NPR NPC quindi tipo thank you for the rose thank you for the rose ogni volta che le vedevo oh mio dio però sì no c'è gente che va live così per me è un po' passata questo trend ma la cosa figa di chi va live è che adesso TikTok sta lavorando tantissimo a rincorrere Amazon sullo shop quindi chi fa live può vendere in live questa è una cosa che è attiva in UK al momento in Italia non credo che sia ancora attiva ma se io sono creator beauty e mi sto facendo un make up e sto parlando della mia vita e mi fermo un attimo a dire ah mi avete chiesto tutti questo mascara dove l'ho preso cliccate qua sotto posso mettere sotto il prodottino che tu clicchi e direttamente vendi in live quindi per questo è molto utile secondo me no quello può essere potente avevo visto che l'avevano lanciata per il Black Friday ed erano ovviamente molto aggressivi perché quello è un mercato incredibile l'hai visto il video mi ha fatto rire della ragazza cinese che vende alla velocità della luce fa vedere non so questa è la maglietta e poi e ha due persone che gli passano e c'è questo trend in Cina ok che peraltro adesso stanno bloccando bannando perché dicono questo è too fast cioè il prodotto lo vedo due secondi però per far vedere più prodotti possibili perché poi hanno un affiliation prendono da ogni prodotto te lo fanno vedere così allora questa è la camicia cioè apre la scatola questa è la camicia e proprio muove la scatola così e poi di lato c'è uno che gli mette il prossimo prodotto questo è il segno di piatti via e hai due persone che girano e fa alla velocità una televendita ma è strepitosa e poi un'altra invece l'ho vista lo faceva con i pantaloni e ti faceva vedere i primi pantaloni aveva tutti i pantaloni non so dieci pantaloni arrotolati e due persone che tiravano sui pantaloni e le i tagli più grandi esatto e così e aveva dieci pantaloni perché poi sono cose cheap quindi la commissione è talmente minima esatto quindi capito però è solo per dire che anche da una cosa così comunque tiri fuori un'idea comunque è un'idea interessante anche se ovviamente uno non la condivide perché dice ma dai che puoi fare marketing o una vendita così però magari è un format che io magari non so Galeazzi che fa recensioni tech potrei dire Andrea ma perché non provi a fare una volta un video dove una live così e fai cento prodotti cento gadget iphone cos'è e lo tratti anche come dire un prodottone che costa un sacco di soldi ad ora penso qua due secondi via quindi non lo so insomma è un mondo interessante cosa avevo fatto io prima di Natale la tombola del content creator cosa la tombola cioè io avevo praticamente immaginato se ci fosse tipo una tombola ideale per qualcuno che crea contenuti quali sarebbero i premi quindi avevo fatto proprio amboterno amboterno ed era praticamente così facevo vedere e travo via così ma invece c'è una cosa che volevo dirti al buonissimo perché ho visto i tuoi video sui robot in cucina ah ok finissimi ho comprato un bimbi ok thermomix sì l'hai mangiato? io no ma ce l'abbiamo penso un bimbi uno di questi qua ok perché secondo me per come ti conosco io dall'online potresti impazzire cioè io sono impazzita io ho preso adesso a Natale l'ultimo di generazione ultima ok è un voi lo conoscete il bimbi ce l'avete è incredibile non so neanche come fa tutto fa tutto e lo fa per te e mi fa pensare fammi un esempio di tutto fa tutto allora ti pela pela tutte le patate ti taglia ti trita ma questa non è la cosa interessante la cosa interessante è che è collegata a un'app sul telefono che si chiama cookie do dove tu hai migliaia di ricette da tutto il mondo e tu cerchi la sera mentre in un momento ti persi una ricetta che dici questa la vorrei fare e io per esempio che odio cucinare non so cucinare non so mai comprare un uovo ho persone a cena e vorrei tanto a volte l'ho fatto in passato scusate ho deliberato e ho fatto l'inter che ho cucinato io quindi l'ho fatto in passato perché per forza perché è un impedimento per me quindi invece vai su questa cookie do cerchi la ricetta e c'hai uno schermo touch sul bimbi e tu te la mandi dall'app e lui come se tu fossi una specie di ebete ti dice letteralmente passo passo cosa devi fare e quindi tu monti sopra degli accessori hai il frullatore in cui metti ci metti l'acqua poi ci metti dentro al frullatore un altro accessorio loro e ci metti il riso dentro poi sopra ci metti ciò che chiamano il varoma tray quindi un tray sopra così poi sopra ci metti l'altro tray varoma la coperta c'è la copertura sopra e dentro c'hai verdure riso salmone altre verdure spicci un pulsante e lui ti cucina tutto al vapore ti fa tutto e tu ti siedi a guardare la tv io gioco a scacchi e hai la tua giochi a scacchi e hai la tua ricetta pronta lo voglio adesso e questo video è offerto da bimbi sono anche qua adesso a prezzo scontato no ma finissimo no quello non ce l'ho quello non ce l'ho perché se no lo vedrai no ma bimbi sono anche ai vari accessori trullatori questo è quello strutturato però mi ha fatto riflettere sul fatto che spesso quando faccio vedere una nuova tecnologia la gente hates on me perché c'è una paura tipo le AI dice ma allora poi non più impareremo mai a cucinare però in generale chiudendo così mi piace il fatto che è l'uso che ne fai della tecnologia ovviamente anche l'internet è pericoloso per vari aspetti ma è l'uso che ne fai che poi definisce chi sei quindi anche col bimbi puoi diventare un cuoco proietto grande grazie mille ci vediamo alla prossima grazie a te grazie ci vediamo in UK ciao